Il popolo del Leoncino è pronto a rimettersi in sella alla scoperta delle marche. Dal 16 settembre riparte la Benelli Week, ovvero la settimana di culto per amanti e possessori di moto Benelli che da tutta Europa confluiscono a Pesaro in quella che nacque nel 2011 come occasione per festeggiare il centenario della casa motoristica per poi diventare un appuntamento fisso da 14 anni. Ormai è un programma ben consolidato, tutti arrivano qui in motocicletta e tutti ogni giorno vogliono fare un giro in motocicletta proprio nel ricordo della Benelli. Ritroverremo qui nel parcheggio del Museo Benelli per partire per un giro turistico, ovviamente tutti concentrati nella nostra regione, quindi sono giri a Margherita. Partiremo con il classico dei giri in moto che è il giro dei due passi, quindi tra Bari e Seriola. Poi andremo su al Conero, il secondo giorno martedì. Il terzo giorno invece andremo a visitare i murales di Cacciano, vicino a Fabriano. Il quarto giorno invece lasceremo da una parte le motociclette per salire in barca perché faremo proprio un'escursione in barca qui sotto il colle San Bartolo. Ovviamente poi l'altro giorno, il venerdì, riprendiamo le motociclette, transiteremo sulle strade che portano fino a Urbino mentre poi l'ultimo giorno lo dedicheremo il sabato all'escursione fino al Monte Carpegna. Quindi sono tutti giri pensati per il nostro territorio. Concluderemo in bellezza con il solito raduno a calendario Asi che si chiama La musica della moto. Quel giorno sarà aperto solamente alle motociclette costruite prima del 1965. Sarà dedicato appunto alla storia motociclistica mondiale dei primi 60 anni del 1900. Chiuderemo in bellezza con il classico rombo di tuono perché saranno le Benelli da competizione che appartengono alla collezione di Luciano Battisti a comandare la manifestazione appunto con l'accensione di queste straordinarie motociclette. Ad enfatizzare il valore della Benelli Week quest'anno è dedicata alla memoria di Silvio Grassetti anche comune, regione Marche, terra di piloti e motori e l'immancabile presenza del presidente del club Benelli dell'isola di Mann. Una Benelli Week che nell'ambito del progetto La musica della moto prevede anche un concerto evento dal titolo Over and Over Again un viaggio con Franco Battiato con una performance degli stessi storici musicisti dell'artista siciliano. Concerto in programma all'auditorio in Scavolini venerdì 20 settembre. Intanto è tangibile l'effetto capitale della cultura sulla fluenza stagionale al Museo Benelli. Grazie sicuramente appeso alla capitale della cultura abbiamo avuto un incremento di visitatori incredibili siamo veramente molto molto felici perché in sei mesi abbiamo avuto già il numero che erano stati l'anno scorso a visitare il Museo Benelli in un anno quindi un risultato veramente incredibile incredibile è il fatto che sono tantissimi coloro i quali non solo vengono dall'Italia ma dall'estero a visitare il Museo Benelli.